Per affrontare un tema di fondamentale importanza per il territorio di Coria. È ufficiale, lo svincolo di Calcinelli è stato inserito tra le opere prioritarie della Regione Marche. Compatibilmente con i tempi necessari al completamento delle fasi progettuali e alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il cantiere verrà aperto all'inizio del 2024 per 12 mesi di lavori. La conferma è arrivata questa mattina dall'assessore all'infrastrutture Francesco Baldelli, che nel Comune di Saltara ha annunciato l'opera ritenuta strategica per l'intera vallata. Avete parlato di visione, di gioco di squadra, ma soprattutto di un cambio di passo per un'opera attesa da oltre 20 anni. Opere attese da oltre 20 anni, non solo questo intervento puntuale che realizza una nuova uscita in entrambe le direzioni, tra l'altro per Calcinelli, la zona industriale di questo comparto economico-industriale molto importante, ma un cambio di passo, una visione infrastrutturale della provincia di Peso Urbino e della nostra regione. Ad iniziare dall'individuazione di quello che è lo scheletro strategico delle arterie su cui dovremo far gravitare il nostro traffico, in nome della sicurezza, della sostenibilità ambientale, economica e sociale e dello sviluppo economico-turistico dei nostri territori. Quindi anche meno inquinamento e meno disagi per gli abitanti e per gli imprenditori? Le faccio solo un esempio. Le due nuove bretelle che sono previste nel masterplan delle infrastrutture stradali, quindi il piano strategico delle infrastrutture della nostra regione, che confluiranno sulla E78 a partire da Carpegna o da Fabriano, permetteranno le emissioni di ossigeno o meglio la mancata produzione di CO2 pari a un milione di alberi all'anno piantati. Quindi questa è la visione che la nostra regione ha, non solo infrastrutture che vengono calate sul territorio, ma infrastrutture in nome della sostenibilità, anche ambientale e ovviamente della sostenibilità di vita dei nostri territori, da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista turistico, da un punto di vista della qualità delle condizioni di vita del nostro abitato. L'infrastruttura, inserita da ANAS nel piano nazionale del potenziamento delle intersezioni, verrà collocata a metà tra i due svincoli esistenti di Lucrezia e Calcinelli, in corrispondenza della zona centrale alle aree industriali, e comprende la realizzazione di un cavalcavia accampata unica di circa 33 metri lineari, per un'altezza minima di 5,20. La prima sima dell'investimento è di 2 milioni e mezzo di euro. Per chi ci accusa di immobilismo, ha commentato l'assessore di Colli al Metauro Francesco Tadei, è la dimostrazione che quest'amministrazione parla poco e preferisce la politica del fare. Soddisfatto anche il sindaco Pietro Briganti, che ha ringraziato la giunta Acquaroli, e in particolare l'assessore Baldelli, che ha seguito il progetto. Sicuramente darà un gran ristoro, perché abbiamo dei conteggi, di quelli che sono i passaggi giornalieri, solo sul fiume Metauro. Recentemente la provincia ci ha comunicato che giornalmente passano più di 10 mila mezzi al giorno e nel centro di Calcinelli, nel semaforo di Calcinelli, dove tra l'altro non si presta tantissimo per la sua conformazione a facili manovre da parte dei mezzi pesanti, si stima che passino dalle 15 alle 16 mila mezzi giornalieri. Quindi quest'opera darà sollievo dal punto di vista della viabilità, ma non solo, darà possibilità di sviluppare un'area da sempre rimasta al palo, perché gravava sui proprietari l'obbligo di contribuire attraverso la realizzazione di questa importante opera che è lo svincolo della superstrada sulla Grosseto Fano, darà la possibilità di sviluppare questa importante area produttiva, con possibilità quindi di insediamento di attività, possibilità di creare posti di lavoro e quindi portare ricchezza. Questa opera assume ancora maggiore valenza e maggiore importanza se si pensa ai notevoli investimenti che la Regione sta facendo per rilanciare questa vallata che è rimasta per troppo tempo indietro negli sviluppi infrastrutturali della Regione Marche. Ciò consentirà, grazie alla guinza, grazie allo sviluppo, agli investimenti sulla Contessa o al miglioramento dei manti stradali, di far sì che le nostre aziende possano avere maggior competitività a livello logistico e far sì che ci possa essere uno sviluppo sul territorio di quello che è il turismo.